benvenuti in un nuovo video allora come potete vedere dal titolo questo è un vlog insieme alla dark lady bijou sto iniziando adesso adesso sto fuori con il cane portato fuori lei adesso ha preso l'autobus che sta venendo da me perché l'ho chiamata stamattina dicendo se voleva venire con me a laushan che devo andare a comprare lì e che devo andare a cambiare il giochetto per mio figlio perché non funziona no mario galaxy sempre giochetto della wii no mario galaxy ma quello mario kart che abbiamo preso e siccome non funziona dice impossibile leggere il disco tanto è usato infatti visto dietro comunque tutto sfriggiato ieri ci sono passata mi hanno detto comunque che si può cambiare dato c'è un scontrino e tutto e quindi a posto insomma ecco e e quindi niente ma lo può cambiare e quindi vado giù per questo motivo qua vada lausha mi sono truccata mi sono messo l'ombretto un po marroncino mascara la matita rosetto nuovo dell'essence costa poco bel po lo vi è se l'ho comprato pensavo che era più scuro perché volevo col viola come vedete come lo smalto ma a vederlo pareva invece no adesso più rosa va bene ok e mi ha to fit niente normale giubbetto lungo i pantaloni questi quei sportivi quelle peppe 9 niente si vede insomma con le squadre le squarpe voglio dire le scarpe nuove le timberland e quindi niente adesso aspetta lei abbiamo deciso di fare questo vlog e lei pure lo fa il vlog e lei già mi ha detto che l'ha cominciato il vlog quando è uscita di casa come ho fatto adesso con me quindi lei farà il vlog con me insomma oggi col ciolare su cosa poi lo caricherà lo caricherà sul suo profilo su youtube sul canale suo e io ho uguale il mio quindi volendo potete vedere è lo stesso vlog però le stesse cose diciamo le stesse cose le stesse cose ovviamente però in quadrature diverse diciamo dopo lei non si vergogna di niente quindi di sicuro fare un vlog da fermata dappertutto penso non lo so io invece sono un timida non mi vergogno fammi vedere che sto facendo il vlog anche lì ha fermata se c'è tre persone faccio vlog così no mi vergogno che quelle altre persone dicono questa è pazza e se dice a me non me ne frega infatti dovrei prendere esempio di lei alla fine oh che cacchio me ne frega dato ma come conosce nelle persone non è che però mi vergogna ancora ecco e quindi niente adesso porto sul cane aspetto che lei mi arriva e dopo usciamo subito appena usciamo comunque riprendo finché non arriviamo alla fremata riprendo con il cellulare insomma ecco e quindi niente dopo se volete andare a vedere il vlog lo stesso anche se è uguale nel sito suo dark lady bijou si chiama se volete vedere un'inquadratura diversa insomma ecco potete vedere lì e quindi niente abbiamo deciso di fare questo vlog questo sarà il primo di vari vlog che faremo insieme ok non usciamo spesso insieme la mattina o il pomeriggio la sera quello che è perché comunque lei è da fare sta in giro per trovare lavoro eccetera può da fare dentro casa come come tutti insomma anche io uguale e dopo quando capiterà che usciamo la mattina adesso finite le feste l'abbiamo ce lo siamo ci lo siamo promesse insomma che non arrivo se arriva qualcuno insomma adesso finite le feste usciamo la mattina che mio figlio a scuola quindi ho quattro ore libera alleluia perché lui entra alle otto esce a mezzogiorno e tre quarti 8 e mezza 9 ci incontriamo giù al piano in città facciamo giro non so per le bancarelle così vi facciamo vedere un po ancora insomma insieme a noi vi portiamo insieme a noi e così facciamo il vlog adesso è successo così da fretta perché ho più l'ho chiamato e ho detto va Sara a fare il vlog mi ha detto sì sì ho già cominciato ah sì allora a posto io l'ho domandato perché che non so altra volta non sa sentiva stava un po così non lo so quindi è giusto domandare ho domandato e mi ha detto sì Greta perché no ho già cominciato e quindi a posto quindi questo sarà il primo vlog che facciamo insieme e dopo come vi ho detto ci saranno altri vlog no consecutivi no perché ho sbagliato io consecutivi no perché comunque è di continuo no però una volta al mese una volta al mese vedremo quello che possiamo fare io e lei che possiamo uscire però facciamo qualcosa di diverso usciamo famo qualche altra roba famo shopping di qua di là facciamo il vlog insieme insomma quindi a posto così allora ci vediamo dopo mentre sarò con lei praticamente cambio di programma perché la mia amica mi doveva venire sotto casa a suonare adesso sto praticamente un attimo sto sotto la telepanchina qua davanti alla fermata che ho chiamato per sapere dov'era mi ha detto che praticamente aveva preso l'autobus e ho detto guarda Greta te monta direttamente su che il 44 va diretta a Lauscia sotto che ha aspettato un'altra ora prima per aspettare l'autobus per andare a Lauscia mi è quasi sporca porca miseria sì io non mi ero accorta dato via a posto no scusate non mi ero accorta che mi ero sporcata con l'ombretto e quindi niente cambio di programma questo nel senso perché pensavo che non mi ha suonare invece dopo il satato ho preso nel 44 e quindi monto direttamente su appena sta sotto a casa di un'amica nostra che è qua vicino che sarebbe Elisabetta che la chiamo Betta come già vi ho detto e cosa sto a suonare che è che c'ha la sua raguil vabbè te lo sai sono a me e quindi niente adesso si fumo per tanto che aspetto e tocca a me fare lo squillo quando è arrivata lì vicino a casa d'amica mia a meno intanto mi metto l'intera fermata però mi tocca a sta in piedi quindi intanto adesso ho seduta e ne approfitto e quindi niente adesso aspetto che arriva l'autobus monto su o dopo faccio il video quando scendiamo dall'autobus oppure seppure faccio un pezzo di video mentre stiamo tra l'autobus senza che parlo parlo con lei e intanto parlo con voi adesso vedo se ce la faccio speriamo che ci stai posti a sede e quindi niente ci vediamo dopo o ad entrare l'autobus o appena usciamo dall'autobus insomma ecco appena siamo arrivati all'ausa adesso vedo un po' siamo usciti adesso dall'autobus ecco con la dark lady bijou che sta mettendo il video perché sta inciampata non ride e dai gira tipo un attimo dai da fa eccoci ok adesso lei sta a fare il video questa è che sta dark lady no sono io dark lady e cazzo so c'è i nomi uguali di nick bro di lady nilz ciao siamo al centro commerciale ok adesso stiamo entrando stiamo con doppia voce perché lei fa il video si esatto facciamo il video tutte e due esatto il primo video di una lunga serie di video che faremo va bene e niente adesso come prima tappa andiamo te parla Tato guardi ah ok certo come prima tappa andremo si come prima tappa andiamo andiamo proprio in Alconetano vado a cambiare il cd poi devo comprare pure le pile quindi ci vediamo dopo che stiamo entrando proprio nel cd commerciale niente mio figlio è sfortunato perché dovevo cambiare il cd ma non è arrivato cioè non ce l'hanno un altro e quindi e quindi niente mi tocca aspettare da 4-4 giorni perché domani arriva nel pacco dei cd e la mia amica c'è sempre eccola qua saluta la dark lady bijou con la lady nils insieme e niente adesso andiamo a cercare le pile per il telecomando della wii che so mi fiolo maco ci può giocare con l'altro gioco e quindi niente oh so carini no del natale l'epifania dell'epifania vabbè però c'è il coso del natalizio dai alla fine volevi di quello dai sì ma infatti Willia ce l'ha per esempio però non è che c'è dentro la roba allora e qui devo trovare le pile Sara le pile? le pile sono là in fondo guarda chiedo a lei le informazioni che lei sa tutto di tutti di più di tutti i negozi di tutto il mondo sono diciamo informazioni ah eccole qua guarda ah eccole qua le pile devo prendere quelle medie cioè non è tanto grande medie allora medie queste troppo grosse boh non lo so Sara sai allora queste sono quelle piccole queste sono quelle normali diciamo quelle medie sarebbe queste eh queste medie normali madonna 3 euro 5 fa vedere io sono una ragazza di low cost dovreste trovare quelle low cost tipo questo possiamo vedere il pantalone per la dark lady vediamo un po' il pantalone ma beh se vuoi io prendi dopo ci tieni i pantaloni sa qui c'è sta le calze guarda ma anche un'altra cosa mi serviva tipo così come questa qui però con le maniche lunghe capito? l'avevo vista 5 euro questa no nel bancarella però ho detto boh quelle belle però no le pantaloni c'è tipo così non lo so hai già visto l'opardato che aspirava fuori le test oh ma questi non hai visti? no non te ne frega non lo so io che tipo il pantalone stia cercando no 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 niente questi questi annullati insomma stava strozzata no ci stanno solo questi evidentemente peccato è l'unica roba sono uscita solo con 5 euro ma queste costano 7 euro tutto uomo infatti c'è cose carine provo è da uomo è da uomo i cori guarda sorsacchiotto se è carino riprendolo che è carino ma il po' ciao mini con la borsa nuova di dark lady allora è fashion sono riuscita a mettere queste scarpe qua le faccio vedere pure io sono riuscita a mettere queste scarpe qui queste carine è molto non le trovo perché le avevo infilate sopra all'armadio ho tirato su un po' di roba allora vabbè qui c'è la magna andiamo a reparto dolci perché vi voglio far vedere reparto dolci e caramelle che c'è c'è nella scatafascio dove è che sta? ma no lì c'era quei barattoloni con le caramelle dentro l'hanno spostate l'hanno messa là ah perché l'hanno messa là giù? ah non le può ci cambiano sempre non le tro eh c'è no guarda se è carino della nutella questo Snoopy ah Snoopy che forte ah guarda c'è pure i barattoli di nutella così guardate se è bello che mondo sarebbe senza nutella eh eravamo più magri non da sicuro c'era ragione ah io con i nils lady nils di obono lady nils vabbè sì ma dove stai? sì le caramelle entrano il reparto della carne esatto ah beh è bello sono molto incusati ah una tale ma ah madò che figata cioè ragazzi guardate che roba c'è una roba finita c'è tra confetti da fare 10 kg solo a guardarle mamma mia io una volta qui i M&M's i M&M's li aduno guarda che figata quelli M&M's fatti così a cuore pare tutti colorati mamma mia sa paese dei balocchi no veramente il paese le girelle che piacciono tanto a mamma ah quelle pure buone l'icolizia c'è anche un altro tipo di caramella ah beh i tortellini a caramella non è vero ragazzi i tortellini veramente la pasta ah qua c'è tutti i tipi di pasta tutti i tipi di pasta tipo le anticchie però secondo me non è igienico una roba del genere sì ma infatti manca meno che mi piace incontro le caramelle incartate ma già ma le lecca lecca mi spaccadenti li chiamo io c'è mi non capisco cioè se ne vuoi più uno costa 1,99 100 kg 1 kg allora adesso andiamo da Pinky l'abbiamo detto insieme lei nel video suo io nel video collegate perché stanno facendo ognuno il video esatto non so l'avremmo detto 20 volte che ognuno di noi fa un video però va bene allora Pinky eccolo qua qui sì è bello che c'è robe eleganti proprio proprio date per la mia amica guarda se è vestito la collana guardate la pantana va vedere sì è bello guarda qua le giacche pure una palizio proprio non so se si fa fare video questi qui quelli che vanno qua sì mezzo dito quanto costeranno? i meeting quanto costeranno? chi ora? io voglio sapere se c'erano i sconti no non c'erano i sconti 4 euro, 4,95 euro i mortacci si ma costa un bel po' va? tu? è vero perché costa un bel po' tanto è bello a te ti piace quello delle frange è bello un bel po'? è bello è bello sarà? sei colano? no no eh mmm guarda questa è figata è figata questa questa per te c'è di simile mi pare no? no no gli spugioni con i cuscini? no no è stato mio adesso andiamo a Piazza Italia che l'amica deve vedere alcune robe lì andiamo a vedere vediamo se trovo voi facciamo a vedere niente stiamo a fare video per YouTube ci ha fatto caso qualcosa tipo anche ho anche di bigliettivo ho contratto un amico mio che lavora lì la fasto vi ho detto no niente ci ha fatto caso che ci ha visto qui due telefoni in mano io ho detto no niente perché stiamo a fare video per YouTube qui sì allora sto a fare una forza a fare video che c'è gente che mi guarda però vabbè prima volta adesso andiamo a Piazza Italia appena sono arrivata lì rifaccio il video anzi no mi sa che rimango così no faccio il video perché c'è troppa gente laggiù quindi ok ci vediamo dopo Piazza Italia sì ma non alza sul video così sta a fici come me che si vede uguale che se no ah te andai qua io seguo a te ma vediamo così è che devi vedere bello sto giubbotto sì ma guarda questa questa è stupenda io no a me mi piace queste collane questa è pure bella mi faccio vedere così mi piacciono a me guarda blu blu è stupenda cioè guarda quei bracciali quello sì ma devo devo capire quanto viene però eh ecco sì però c'è una metà a peta prezzo eh sarà quello se non penso che cosa dice euro questa eh tutte 9,95 questa 7,95 scusi queste qui sono già scontate vede qualche pantalone no ma vede qualche pantalone allora Piazza Italia che c'è eh lo so l'ho visto pure io lo sapevo bello eh quanto costa ah che poi c'è scritto qua quanto viene quanto c'è questa è un po' 9,95 4,97 la collana allora verrebbe eh sì aspetta questa qui quanto viene non lo so 24 euro la c'è eh beh scontata non lo so comunque sì bello oh il cappottino questo se è carini 79 è 95 rimane lì è tanto bella siamo un po' poveri siamo un po' poveri di soldi c'è monarira praticamente ah c'è ragione le scarpe fa vedere eh no c'è guarda se belle eh queste nere è una figata queste bellissime le borchette qui c'è queste queste io cercavo quali? queste volevo però non ci saranno eh ma non c'è soldi eh 36,95 queste costano belle oh però queste tutte no tranquilla tutte eh tipo stivaletto così sì è una figata guarda questa che toghi queste belle sì quelle sarebbero belle io se ce la faccio forse ci voglio a fine febbraica se gli da 5 vediamo un po' quanto è scontata di 50 5,47 non so 47 22 no tutti quanta tutti c'è no se cinte belle guarda questa figo eh io non le posso mettere queste no però predite questi tutti i persini del labbro guarda quello verde sforescente ma guarda guarda questi i persini dell'ombelico ma quelli sono spirali cioè è bellissimo pure questi c'è il brillantino qua vedi sono qui i persini del vaso ma da questi ah quelli è orecchini però questi sono orecchini sì questi che finti questi mi stanno quelli finti io perché quelli piccoli non li metto anche lei sta facendo il video il vlog qui dietro c'è l'ousha praticamente adesso ho comprato un braccialetto da pazza Italia carinissimo tutto rosa dopo ve lo farò vedere il video io invece mi sono comprata l'aloea persino del naso almeno argento vero 2 euro costato rombo tutto brillantinato argentato insomma bello perché io come già vi avevo detto mi pare di avervelo detto che io i persini del naso l'ho buttati tutti e perché tanto li prendevo dai cinesi e mi ha fatto tutto il pus attenta Sara ah no questa sera la macchina e niente e quindi praticamente l'ho buttati tutti perché tanto fece infezione ma dai l'ho chiesta a questa ragazza niente mi ha detto no guarda è un argento vero quindi vai tranquilla non ti fa niente si la vedo ci accoppano siamo così intenti a fare il video c'è 300.000 macchine e niente adesso stiamo andando alla fermata ti diamo un po' di vantaggio così puoi parlare di io ah ok sì perché ci sentimo ci cosiamo no mi ha detto ti do un po' di vantaggio vai avanti sto dietro perché se no venimo sopra con le voci se capisci niente e allora adesso stiamo andando alla fermata che andiamo a casa allora qua attraversiamo c'è nessuno adesso aspetto l'autobus prendo la sigaretta con l'accendino e fumo aspettate che ma c'è andata la sigaretta un attimo devo fumare è stata un'ora senza fumare è troppo non so se mi avete capito ho detto è stata un'ora senza fumare è troppo e il rossetto ovviamente me l'ha dato via ok quanti erano i braccialetti sei sei pezzi diversi sì no del braccialetto che ha preso e quindi niente adesso sto fumando sono già i due adesso vi faccio salutare anche da le Hilt come dice lei che si dice ciao io vi saluto ci vediamo al prossimo video adesso salutando ciao allora ok te invece saluta i miei ciao a tutti ciao e niente dai adesso il video finisce qua fumo perché non raccomfumo sto a morire la fumera la ciminiera la ciminiera sì io pure fumava però mi ha messo beata lei dopo ve lo spiegherò dopo ve lo spiegherò ve lo spiegherò insomma se vedete questo andate a vedere i miei video e ve lo spiegherò nel mio video esatto e quindi niente adesso aspettiamo l'autobus quindi vi lascio qua il vlog non è finito dopo faccio un pezzo che arriva a casa così vi faccio vedere anche il prissin del naso che ho preso e quindi niente ci vediamo dopo ciao eccoci un'altra volta allora adesso stiamo tra la fermata che stiamo aspettando l'autobus abbiamo fatto il giro per l'ausa tutto quanto lei si è presa una cosina io un'altra dopo lei ve lo farà vedere nel vostro video se volete passare passate nel suo canale che fa tanti video molto interessanti dei trucco i trucchi li farò i trucchi li farò a gennaio nel senso le robe che compro a gennaio scusate a febbraio marzo ecco perché mi devono ancora arrivare altre cosine insomma farai video sul trucco ha fatto i video sui capelli come si chiama con la tecnica? e vintage vintage no vabbè io perché non lo conosco vabbè è una tecnica brasiliana è una tecnica brasiliana insomma fa molto video interessante è brava ha fatto anche video di outfit eccetera eccetera quindi se volete passare del suo canale si chiama Darchele di Bijou e quindi niente dopo io adesso arrivo a casa vi faccio un'altra pezzone di video dove vi saluto insomma e niente dopo vi faccio vedere il pulsing al naso che ho comprato piccolino speriamo che lo fai già fai a vederlo però ti dì ci siamo divertiti molto faremo tanti video vlog insieme e andremo per le bancarelle in giro per Ancona come avevo fatto vedere nel mio video vlog lo farò insieme a lei ci divertiremo un casino tanto è la pecca di fare i video vlog esatto tenere i video perché sto in alto non è che ne lo posso mettere qui c'è un telefono nelle ma esatto nelle ma con età nelle ma e niente è arrivato l'autobus e niente quindi ci vediamo dopo ciao sono arrivata finalmente a casa come vedete sotto a giubbotto non si vedeva che oggi vi ho fatto vedere l'outfit che c'è il giubbetto quello lungo con i pantaloni neri con un po' sportive diciamo con le Timberland e e questo qui ce l'avevo sotto vedete quella maglia che vi ho fatto vedere sul video quello lì gli autoregali che mi sono fatta così si vede tanto che qua adesso in camera mia è scuro l'ho fatto qui il video lo faccio vedete qui dietro non so se vedo la cichiera qua eccolo poi c'è il capiccio il cappuccio proprio a yo-yo yo-yo proprio così non lo tengo perché mi sta bene no adesso vi devo fare vedere come ho detto prima il piercing del naso adesso lo apro ve lo faccio vedere allora qui hanno incartato tutto allora aspetta eh incartato proprio bene bene mi lo sto strappando praticamente allora così dopo me lo metto subito un attimo eccolo aspetta ti faccio piano perché sono a parte oh qua così aspetta qui in te nero lo vedete meglio ecco qua guardate come lucica pare rotondo ma invece no è forma di rombo praticamente comunque questo qui è il piercing dopo me lo metto lo metto qua sopra la carta e quindi niente questo era il vlog che abbiamo fatto io e Dark Lady Bijou ci siamo molto divertite abbiamo comprato insieme sia io ho comprato sia il piercing e lei ho comprato un braccialetto tutto rosa insomma sei bracciali uniti diciamo attaccati che puoi mettere sia insieme oppure uno alla volta insomma ecco e niente abbiamo fatto tutti questi giri avete visto e niente adesso sono arrivata a casa da oggi che mi ha preso male qua sarà il freddo sicuro e niente mi sono comprata ah ho comprato le pile due paia di pile per la Wii cioè no per la Wii per il telecomando cioè tipo la manopola per la Wii sapete quella bianca lunga però che fregatura però io non pensavo che ci voleva le pile cioè voglio dire della Playstation c'è la manopola ma non è che ci va le pile dentro per funzionare la manopola voglio dire io convinto vabbè io faccio la Wii ma cacca è una fregatura questo ferro mi va a spendere 300 euro al mese di pile adesso hanno comprati due pacchi ed è ancora ce l'hai e funziona ma che poi vita verte tra la televisione c'è scritto sta affinando la batteria ce ne va una meno male almeno quello infatti come avete visto all'inizio con la Dark Lady con la mia amica infatti questa ha visto quello proprio l'off cost proprio costava poco 1,49 euro l'una e ho preso quelle insomma ne so 4 pile dentro vabbè un dorale tantissimo però ce ne va una di pile però cacchio che fregatura non pensavo proprio che c'è che in tela Wii c'è che in tela Wii c'è in tela manopola insomma il telecomandino come lo vogliamo chiamare c'ha le pile io adesso parlo caso mai con chi è che ha la Wii se mi sa dire se c'è una manopola apposta che non ci vuole la pila se esiste se c'è non lo so se no mi tengo quella quindi caso mai commentatemi chi è che ha la Wii e mi spiega un attimo se ci vuole per forza le pile oppure si può fare anche in un'altra maniera insomma oppure se non so adesso sto dicendo una cavolata no mi sa che no che la Wii è fatta apposta col telecomando così se no ho pensato la manopola poi stai ce l'avete attaccata la Wii non so penso tutto però mi sa de no vero mi sa de no comunque ditemi voi se si può fare qualcosa senza pile a meno ogni settimana c'è bisogno di andare a piele anche perché il mio fore ci gioca attentissimo con la Wii va bene è che stade dalla mattina sarei davanti anche perché non faccio sta perché fa male dopo lo faccio uscire con i miciti su il pomeriggio eccetera eccetera però quando c'è sta c'è sta insomma ho fatto tutti i giorni la do per la Wii e quindi casomai mi commentate qua sotto chiacca la Wii e mi fa sapere insomma ecco se c'è un'altra maniera poi niente insomma oggi ci siamo divertiti tantissimo era tanto conosciamo insieme era un bel pezzetto e quindi niente come ho detto questo sarà un seguito di altri video che faremo insieme appena abbiamo tempo la mattina finite le feste andiamo a fare altri video scusate se adesso io non lo so che ancora il video non l'ho visto adesso l'ho fatto ma non ho visto il video del vlog di oggi che ho fatto perché infatti la mia amica io l'ho detto sarebbe da fare così quando lei farà il video vlog col suo cellulare io con il mio amico non ci parliamo da qui e lei qua vicine perché dopo le voci si sovrappone e non so dopo se voi capite bene quello che dico io sentite la voce sua e lei perché ha proprio la voce alta quindi non so se a me mi sentite più di tanto e più di tanto voce alta non ce l'ho quindi la tua prossima volta che ormai ti distanzio un po' o io almeno faremo un attimo quel video lì insomma ecco tranquillità almeno le persone ci sentono e noi ci capiscono e quindi niente nell'arte che ho fatto stamattina l'avrete già visto il video ok che già l'ho caricato oggi quindi già su youtube se lo volete andatevelo a vedere chi è che non l'ha visto e niente spero che questo vlog vi sia piaciuto che vi abbiamo fatto compagnia vi abbiamo portato un po' con noi al centro commerciale all'Auscia abbiamo fatto vedere un po' di cose Pinky vabbè il Game Store non ho ripreso che c'era tanta gente poi devo fare io le cose quindi niente dentro all'Auscia insomma eccetera eccetera a Paz Italia poi alla fine siamo andati lì e ne ho ripreso che il piercing l'ho preso a Apple Grossing Apple no come si chiama quelle volte vabbè non mi ricordo finisce con Apple insomma cosa tattino lì le cose infatti il piercing lì l'ho pagato 2 euro però vabbè per il naso andate me lo guardate subito me lo vedrete sempre qui questa roba che spicca anche il naso alleluia alleluia non ce l'avevo più mi faccio un po' di scorta anche col piercing del naso adesso piano piano e quindi niente allora spero che il video vi sia piaciuto commentate iscrivetevi mettete mi piace e ci vediamo presto al prossimo video ciao a tutti un bacio ciao ciao